allora di nuovo devoro questa volta in versione invernale doppio vale davanti michele e andiamo a farci canale de los angeles ha iniziato a nevechiare però è troppo bello siamo alla ricerca di un buco nella nebbia ora stiamo salendo dalla piana cado male al piani della rossa allenamento zero è la prima uscita dopo un mese e mezzo di lockdown dopo questo primo fatto un po impegnativo qualche dolore di pancia non voluto come vale stanno prendendo le nuvole che stiamo sicuro tanto questo è lo stesso giro che ho fatto quest'estate a piedi panello della rossa che belle su quel cucuzzo quasi arrivati in fondo sta mevicando anche bene siamo su solo una bella siamo andati in cima pronti a scendere bella vale come è la robin? deve tornare su? devi tornare su vale ripella mi è venuta con gli occhi chiusi che merda vai te vado io eh no bene bene possiamo rotolare giù adesso gambe finite ah di là è sceso ah che bomba che è è so Noi, 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 noi. Cazzo però Ha trovato anche l'altro Grande Miki Che solida rietta Male le gambe Impressionante Ragazzi per il secondo giro si stanno preparando Facciamo solo il concilamento Ora 18 birre e buonanotte Invece noi eravamo in Canada Eline fa una bella tazzetta così da assaggiare Dovremmo fare i video come fate le altre Ci mettiamo ancora Che presterò E' il male E' il bene Ciao